Archiviato il KO per 3-0 subito a Picerno, il Monopoli si tuffa nel derby contro il Bari, in programma sabato alle ore 17.30, allo stadio Vito Simone Veneziani. Si affronteranno due squadre reduci da un brusco stop dopo un ottimo momento di forma. C'è attesa per la vendita dei tagliandi, con il Goss che sta decidendo se aprire o meno ai residenti fuori Monopoli. Per quanto concerne invece il discorso strettamente relativo al campo, Colombo dovrebbe recuperare proprio due ex Bari per la partita. Arena, fermato da un disturbo gastrointestinale alla vigilia della gara contro i Lucani, dovrebbe tornare normalmente a disposizione, così come Francesco Grandolfo, in panchina per un affaticamento muscolare e non rischiato da Colombo, visto il risultato ormai compromesso nella sfida di domenica scorsa. Non ci sarà invece Marco Piccini, prodotto del settore giovanile del Bari, che con l'ammunizione rimediata a Picerno sarà squalificato e quindi salterà la gara contro la squadra della sua città. Difficile invece il recupero di Zaccaria Amlili, che sta smaltendo ancora la frattura al quinto metatarso. In città nel frattempo è febbrile l'attesa per un derby d'alta classifica inaspettato ad inizio campionato.